Salve a tutti e benvenuti in questa nuova Christmas Challenge! Sto venendo mal di schiena, sto girando un casino di video, perché la Christmas Challenge, non so se c'è scritto sotto in descrizione, sono 25 video, un video al giorno per 25 giorni, sì mi vorrete bene lo so, poi penso una pausa perché il 25esimo giorno farò solo gli auguri di buon Natale, tranquilli, poi farò una pausa fino a Capodanno, perché penso che al massimo qualche video uscirà, magari per farvi vedere i regali, o magari direttamente farò una live, vediamo un po', come mi organizzerò. Comunque, io lo spiego in ogni video, ma vabbè lo stesso, farò video sia natalizi, sia normali, sia di qualsiasi genere, potete anche consigliarmeli, io lo ripeto sempre, ovviamente sono tutti pre-registrati, quindi ho fatto un post dove vi chiedo di consigliarmi, vi avete mandato 4500 richieste su Instagram, cercherò, no non abbandono il canale ASMR, farò almeno un video settimana se riesco, anche uno sì natalizio, state tranquilli. Nel room tour della camera lo rimanderò, non farà parte della Christmas challenge perché mi devono arrivare delle cose, quindi devo finire da arredare, quindi man mano vedrete dei pezzi, però completate il room tour lo farò solo quando arriverà tutto l'ammobilio. Se volete farmi un pensierino e aiutarmi a arredare la stanza, trovate tutto sotto nella mia lista dei desideri Amazon, ovviamente non siete costretti a comprarmi nulla, ma ovviamente se vi fa piacere io vi farò un video dedicato, vi ringrazierò la follia fino alla fine dei tempi, grazie. Fine del messaggio pubblicitario. Ci sono cose anche strane là dentro. Allora, andiamo avanti con il video. Allora, ho fatto, diciamo, molti video a tema natalizi, anche non, quindi avrete l'impasto della scelta, farò anche i vuoti in itina day, sì farò anche poi, perché tutti i video non so in che ordine usciranno, cerco di farli in ordine di come li giro, però non sempre magari li programmo in ordine, perché magari dico, ah, già il video è natalizio, quello già non è natalizio, cerco di fare un po' un po' un po' un po'. Cerco di essere creativa. Allora, in questo, diciamo, che, appunto, cerco di accontentare un po' tutti, però ovviamente alcune cose, secondo me, non sono più indicate. Già ci saranno dei video che saranno un po' pesanti, cerco di essere abbastanza leggera, quindi non parlerò di argomenti che possono turbarvi nel comitimano così. Allora, quindi, iniziamo il video. Allora, ovviamente ci saranno anche dei video unboxing, ci teniamo a precisarlo. Alcuni saranno un po' più tardi perché, appunto, ripeto, mi deve arrivare un grosso ordine che ho fatto, ho fermato in un negozio, dico, di lontano da casa mia. Quindi finché non arriveranno potrò fare, perché l'ho ordinato su Wish. Quindi, praticamente, ora parleremo di cosa? Di dove acquisto i regali. Non scherzo. Allora, praticamente, vi parlerò di un'app. Di vari app dove potreste comprare i regali di Natale. Ovviamente, quando vedrete questo video, non vi serviranno più a nulla, perché questo video, praticamente, non so quando lo posterò, quindi direte a Sara perché ci hai detto di comprare i regali qua, se poi tanto non serve più a niente. Perché ha dei problemi? Cercherò di mettere questo video un po' prima, se riesco, ok? Allora, io ho usato, sono delle app per fare i regali. Delle app, sono dei siti poi, alla fine. Allora, il primis è Amazon. Lo trovate sotto, in descrizione. La mia lista di serie Amazon, se vi fa piacere regalarmi qualcosa, non siete ovviamente obbligati, ma io vi ringrazierò fino alla fine dei tempi, perché sto cercando di risistemare la stanza. Ovviamente, se trovate delle cose strane, e sono per i video, o ce le ho messe, perché sto utilizzando la mia lista Amazon come popolista da dare alle persone che mi chiedono cosa voglio per Natale. Sì, quest'anno ci siamo scambiate le liste così, perché se magari non ci possiamo vedere, perché ho amiche che abitano anche in altre regioni d'Italia, abbiamo adottato questo metodo. Allora, Amazon, che secondo me, a parte mandarvi, che ne sono magari regali in pacchi strani, per il resto trovate di tutto, ormai trovate addirittura le cose della bottega verde. Quindi penso che Amazon, poi se avete la Prime è ancora meglio, tra l'altro adesso su Amazon, non sono in collaborazione con Amazon, Amazon non mi paga, ho scoperto che ho praticamente avuto dei problemi con il mio vecchio account, quindi ne ho creato un altro, dove ho ricreato anche la mia lista di desideri Amazon, e ho avuto praticamente il primo ordine gratuito. e sono molto contenta con questa cosa qua. Non sapevo che si potesse avere, non l'ho mai avuta, quindi la Prime la vorrei poi mettere appunto se deciderò di comprare vari regali su Amazon, anche se io sono all'antica, preferisco sempre andare in negozi, però non tutti i negozi sono aperti. Io spero e mi auguro che almeno in Piemonte riaprano poi presto tutti i negozi, così potrò fare dei regali, perché mi piace vedere i regali, però pazienza. Io sto parlando dei regali online. Amazon è poi un'app che mi sto trovando molto bene, è Wish. L'ho sempre usata. Se non vi arriva la roba, vi arriva l'imborso. L'unica cosa che non mi piace ultimamente che hanno messo è la cosa che alcuni prodotti te li puoi aggiudicare a pochissimo, però tutti gli altri che li hanno, diciamo, tra virgolette acquistati, dopo di te non li avranno mai. Li avranno i soldi, ma non avranno il prodotto. Io non sono ancora capitata prima, però ci sto provando. Però Wish l'unico problema è che non fa spedizioni rapide, quindi dovete aspettare un po' di secoli. prima che arrivi la cosa. Quindi io ho fatto un ordine a, diciamo, novembre. Sì. No, addirittura non so se novembre o ottobre. Dopo Halloween, quindi sì, novembre. Ho fatto un ordine doveva arrivare tutto tra... Ho fatto un punto di ritiro, perché è così risparmiata adesso. In un punto di ritiro che si trova... Un posto che solo il mio ragazzo ha capito bene dove si trova. Dove arriviamo di tutto tra il 7 e il 6 dicembre. E un prodotto mi arriverà il 17 dicembre. Non so per quale motivo. E quindi ci vuole un po' di tempo. Però diciamo che è utile perché i costi sono molto più bassi. Le cose mi sono sempre trovato benissimo io. A maggior parte delle cose che compro a livello di luci, arredamento, cose particolari, le ho comprato sempre lì. Anche il mio ragazzo ci mi ha trovato benissimo. Poi vi lascio sotto piuttosto il link di tutti i siti. Aliexpress, che anche lì è un'app che uso sul telefonino. Anche lì mi trovo abbastanza bene. Non ho ordinato tantissima roba, però qualcosina ogni tanto la prendo. Perché comunque mi trovo bene. Un altro sito... Mi si sta pannando un occhio. Ascolatemi. Ok. Stavo dicendo. A parte Aliexpress non la sto usando tantissimo. Però mi sono trovata molto molto bene con le cover. Per le cover e per il telefonino sono trovata benissimo. Perché sono bellissime ragazzi. Veramente. Sono bellissime. Adesso hanno un po' rincarato i prezzi delle spedizioni. Però c'è roba veramente bellissima. Quindi mi sono trovata abbastanza bene. Poi adesso un po' tutti fanno le spedizioni. Il problema è che molti mettono delle spese... C'è un corso di penarello del video precedente in mano. Hanno messo delle spese di spedizioni veramente esorbitanti. E quindi non mi trovo molto bene sinceramente. Infatti a volte faccio il ritiro in negozio. O il ritiro in un punto tot per risparmiare sinceramente. Tanto non mi costa nulla andare fino a un tot punto. Passa che non sia a Milano. Che non ci posso andare. Poi... Un altro sito... Che... Diciamo ho provato. Che... Me l'avevano consigliato. Si chiama Shane, se non sbaglio. Non è male. Devo dire, non è male. Allora, per ora non c'ho ancora comprato nulla. Ma per esempio di fatto che... Non ho soldi. Quindi devo aspettare soldi. Però per il resto... L'ho trovato molto interessante. C'è molto carino. E quindi sinceramente... Cioè, lo consiglio per quello che ci vendono. Come assortimento, queste cose qua. Il problema è che molte cose a livello di... Non so, di... Assortimento è buono. A livello di qualità non lo sono perché non ho mai provato i prodotti. Cioè, gli articoli che vendono non li ho mai provati. In prima persona. Magari vi farò sapere come mi trovo, se comprerò qualcosa. Un altro... Un altro sito... Che... Quale è stato? C'era un altro sito. Cioè, esistono anche dei negozi. Che adesso... Non mi viene a mettere il nome. Avevo anche il foglietto. Uffo. Vabbè, ve lo metterò in un altro video. C'è un altro... Comunque c'è un sito praticamente che... Ve lo metterò sotto, se mi ricorderò il nome. Praticamente è un sito che ha negozi anche a Milano. In varie parti è l'unico che non fa i tiri in negozio a Torino. Che sarebbe in via Garibaldi. Che praticamente è un negozio di maglie e stampe. Praticamente loro le hanno già preconfezionate. Quindi non stampano su richiesta. Però fanno delle offerte molto buone. A parte il fatto che si duebbe ogni tanto da qualche problema problemino. Ma perché penso che... Sia bene il fatto che c'erano il Black Friday. Però trovate anche tutte le informazioni anche su Instagram e Facebook. Quindi vi scriverò poi sotto il nome. E ci sono maglie, calzini, offerte sulle felpe, stampate di ogni genere. E anche quello mi piace molto come... Cioè nel corso già mi faceva impazzire. Il sito è fantastico perché mi hanno dato una schedina. Con un codice sconto del 20% da utilizzare sul sito. Quindi volevo utilizzarlo. Purtroppo il sito mi ha dato dei problemi per il Black Friday. Ma comunque magari per fare quel regalo di Natale lo utilizzerò poi. Perché alcune stampe sono veramente belle. Poi ho scoperto che vendono anche poster, tele, calzini, maglie. Ci sono delle offerte anche delle t-shirt. Le canottiere. Nel sito vendono le canottiere. Ragazzi io non sopporto le t-shirt. Quindi il fatto che ci siano le canottiere da donna sono contenta. Però voglio le canottiere larghe. Non potete mettere il massimo della L da donna. Perché sì, a me sta giusta la L. Però magari la voglio un po' più larga. Quindi su. Cioè le ragazze un po' più abbondanti cosa fanno? Non si vestono? O devo tagliare le maniche e le maglie. Mi sembra brutto. Quindi. Poi le felpe. Fattele tutte col cappuccio. Che sono belle le felpe col cappuccio. Su. Anche se so che tanto questo video non verrà mai visto. Dal nome che manco mi ricordo. Lo lascio sotto. Niente. Questi sono diciamo i siti. Alcuni sono anche delle app. Che potete scaricare sul telefonino. Altre no. Che vi consiglio. E niente. Ovviamente se si può. Io preferisco sempre fare acquisti di persona. Però alcune cose mi piacevano ordinare online. Perché comunque magari sono sicura che in quel sito c'è la cosa che sto cercando. Perché alcune cose magari sono particolari. Tipo. Faccio un esempio. Io qua a Torino non ho nessun negozio che vende cose di Harry Potter. A parte intanto GameStop che vende qualcosa. O magari qualche iniziativa. In qualche negozio. Non ho un negozio specifico. Ce n'è uno ad Alba. Ma ad Alba come ci arrivo? E quindi. Opto per internet. Semplicemente. Quindi io penso che anche fare regali su internet non sia malvagio. E poi tanto più perché magari non potremmo spostarci tra le regioni. Non lo so ancora. Quest'anno io comunque farò i regali a tutti. Piuttosto li spedisco. O li mando come corriere. Io sono in zona. E niente. Spero che questo video vi possa essere utile. Non solo per Natale. Ma in generale. Per fare i regali di compleanno. Per fare qualsiasi tipo di regalo. Per fare acquisti anche personali. Vi saluto. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao.